Esordio vincente di fronte al proprio pubblico per la rinnovata Sir Safetis usa Perugia che supera in 3 set, vero vuole Monza nella prima giornata di Superlega con i parziali di 25-19, 25-21, 25-18. Prova convincente degli uomini di coach Anastasi al rientro nel campionato italiano dopo 17 anni. I Block Devils con Leone in panchina e Plotnischi in campo impongono il proprio ritmo di gioco con qualità, partendo dal servizio, passando per un side-out efficace e finendo con un contrattacco su altissime percentuali. Tre in doppia cifra in casa Sir Safetis usa. L'opposto ricicli, best scorer del match con 16 punti, lo schiacciatore Semeniuk con 10 punti e il 90% in attacco e l'MVP della partita Plotnischi che ne mette 12 con giocate sopraffine che infiammano il Palabarton. Setta testa per il duecentrale Russo Solè, Giannelli dirige l'orchestra da par suo e piazza due muri vincenti, mentre Colaci assicura la consueta consistenza in seconda linea. Ora testa la prima trasferta stagionale, fissata per domenica 9 ottobre alle ore 18 in casa dell'Emma Villas Auba e Siena, per una squadra attesa ad una stagione lunga e complessa sia in Italia che in Europa. E se l'inizio è stato convincente, ora l'obiettivo è fornire continuità nel percorso, come sottolineato dal presidente Sirci e da Coccia Anastasi. È stata una ricezione molto buona perché giocava probabilmente anche Oleg Plotnischi, quindi un ottimo ricettore, però ho visto una palla molto veloce, quindi quando la palla dal palleggiatore va molto veloce agli attaccanti, dall'altra parte della rete chi deve murare, chi deve difendere è più spiazzato e quindi non riesce ad arrivare in tempo. Quindi abbiamo fatto bene perché secondo me la palla andava più veloce, quindi quest'anno sembra che abbiamo un palleggio più veloce, quindi ho fatto i complimenti prima a Giannelli, il nostro palleggiatore campione del mondo. So che è solo l'inizio del viaggio e quando fai viaggi così lunghi, così importanti, devi essere tranquillo. C'era da muovere il primo passo, il primo passo è molto importante perché chi comincia bene è a metà dell'opera e quindi volevo muovere bene il primo passo, volevo che i ragazzi fossero tranquilli, ho visto cose fatte bene, altre cose meno bene, ma non per questo ho perso la serenità perché ci saranno sempre cose che non vanno bene nel pallavolo come in tutti gli sport di squadra. Di conseguenza sono felice perché abbiamo dato prova di consistenza di squadra, che è la cosa che mi interessava di più.